Il suo lavoro di il primo giorno Il suo lavoro di un primo giorno Nel secondo giorno abbiamo fatto un po' di sottosizione Dopo il secondo giorno abbiamo fatto un po' di sottosizione Come venivano a sottosistit Oggi ora abbiamo fatto un po' di sottosizione Sengu libevini aga, e kumana, kumana in davase e zlenda ugo. Kutuwa aza lomko ane mzino ti e, e zlenda ugo. E kwa kula lomko ane, kone e uchi, e zlenda uge, a livi kola a sabato di kone e doze. Kwa kuta a sabato di kode ugo, e dove chanabu la, kwe kutuwa a sabato di koke kwa merifi. Kwa kutuwa a sabato di koe kutuwa. Kwa kutuwa, kwa kutuwa, kubwa kutuwa. Kwa kutuwa o chiefもの, kongen e uNa sestimu. se a sveitan da un nì i ho un te baban dunque non si no se si il comune è davanti 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 con un uomo un uomo di sumo ma ma le grazie di lì un uomo di 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. e sono la luna e la a 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